incrocio via tre garofani barocco dal belgo l'acqua continua a salire c'è chi decide di avanzare quando trova l'acqua e chi invece si rinuncia ed ecco altre macchine che provano a passare pian pianino purtroppo questo incrocio è noto ogni volta che piove un po di più del normale si va sotto acqua come potete vedere anche le mie scarte su marciapiede ecco un'altra macchina dubbiosa se attraversare o meno la strada perché siamo sotto acqua tutta via tre garofani sotto acqua e quindi cosa si fa si va contromano l'odore di fogna è alto ed ecco chi decide di tornare indietro retromarcia ci si gira e si fa un'altra strada ecco chi ever può essere? ecco chi... ecco chi